Ma dove siamo? Cristiano? Ma io ne so Ma dove siamo? Area 51 Cos? Ma dove siamo? Sono io il vostro capo Oh no, c'è il capo Capo, che vuoi da noi? Niente, ho solamente un'oggetta per voi Abbiamo fatto 12 piani di un ascensore E dovete farli tutti Per uscire dall'edificio? Sì Davvero? Sì E quanti piani sono? Infiniti, vero? Penso di sì E perché prima hai detto 12? Non sono proprio in matematica, non devo leggere Va bene, ciao, ciao, ciao Bene, Cristiano, quindi dobbiamo fare questi Chi c'è qua? Hulk? Hulk? Ora è il secondo, che cosa sarà il secondo? Questi signore, sta all'uscita, signore Signore? Signore? Espi dalla tua, abbiamo messo i miei di Hulk Ecco, sta uscendo Signore, oh mio Dio Oh mio Dio Oh, posso equipaggiare il suo costume? No, 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 ma io dirò No Signore Signore Eh, non ci metto al muro Signore Sai l'uscita, signore? Non ti permette l'anzare che ti do un cash Ecco Mamma mia, che brutta cosa Ok, che c'è qua? Yoda, Cristian Stava nella sua bellissima acqua Portiamocelo No, è del capo Mi sa questo Che peccato Oddio, quanti soldi Prendi, prendi Big money Big money Big money Big money Big money Big money Capo Ci prendiamo tutti i tuoi soldi Ah, non ci senti, meno male Prendi, prendi tutto Ah, che bello Ma comunque Questa agenzia Non mi ricordo come Qual era il nome? Agenzia Agenzia Hiking Vabbè, una roba del genere C'è tutti questi piani praticamente Ma che li hanno fatti a fare? Eh, a me il capo mi hanno fatti vestiti Ma Bene Perché sono così Attenzione Per problemi tecnici Il livello 5 Non si farà Ah Che cazzo Eh, vabbè Possiamo direttamente a 6 Vai, vai Eh Signore Signore Che cosa sta ascoltando? Voglio sentire anche io Signore Eh, Christian Sta ascoltando Michael Jackson Ma io che ne so Eh, signore Signore Oh, Javion Oh Oddio Siamo salvi per un pelo Ma che c'è? What? Ma Ma cos'è? Scusi Scusi Signore Sì, signore Signore No Signore, lei è una patata con le gambe Che continua a ballare Signore Questa è la patata di Peppa Pig Signore Signore Aspetta Ma che cosa sta ascoltando? Tutti quanti si mettono ad ascoltare Michael Jackson Vediamo un poco Vai Aprite Voglio vedere Che cosa c'è? Aprite Aprite Oh Eh, 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 eh Eh, eh Signore Sì, sì Mi scusi Ma che cosa sta facendo? Signore ma Signore ma Ma sta ballando Gangnam Style Pizzuttato Ah, non ho capito Questo è quel prefettore del capo Con una promozione Adesso è felice No, non credo Perché sta ballando Gangnam Style Sul cesso Signore Cos'è? Credo Ma signore ma tutto a posto Perché sta ballando? Eh Vediamo adesso Cosa ci sarà Era simpatico quello Eh, sì Era simpatico Ok Ok, cos'è? Shrek Shrek Ma Che ci fa Shrek qui? Shrek Ma 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 questo è Shrek Shrek Una cosa sta facendo Lo devo battere Sì Ma lui è Shrek per zuttare Guarda la faccia No, fermo Non lo puoi battere Fermo No, non puoi Non posso Non puoi Il capo di licenza Shrek Ma cosa ne va alla fine? No, non credo Shrek Ma 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 E poi Ma Ma C'è Ma Mi piacerebbe proprio Proprio viverlo dal vivo Sì In questo momento Che appena si apre Sonic Sonic Il video gioco di sonic non ci posso credere non ci posso credere il gioco di sonic mi ascoltate il capo ma che figata bellissimo ma è una figata tu dove stai? è un contro livello davvero? ma non è vero sei sotto ti ho visto sotto infatti quello è il livello allora l'ho finito pure io già prima bene noi un lavoro vorremmo trovare oh l'ultimo piano non è l'ultimo io ho detto che non è l'ultimo ma se sei finito dove la facciamo ad uscire cavolo è vero e vabbè ci sarà prima o poi nascosto in qualche livello una porta per uscire eh credo eh magari è probabile oh minecraft ma che figata c'ho una spada e manci una capella e quindi oh oh cavolo ci penso io creeper oh cavolo no ma siamo vivi siamo vivi e non è che quello là non era un vero creeper era solamente una ricostruzione era un creeper fatto di carta ma questo è lo stesso livello ma questa no aspetta fermo ma questo è lo stesso livello del livello 1 capo se sto contando i saloni ma perchè siamo allo stesso livello del livello 1 oh cazzo mi sono appena accorto che i livelli si sono infiniti ma sono sempre gli stessi allora come facciamo uscire adesso casi vostri ma come cavoli nostri ma dai capo capo come facciamo non lo so nemmeno io ma come c'è una porta qualcosa ma che come sei scemo christian vieni con me andiamo nell'ascensore ok tornando vieni andiamo nell'ascensore vai ecco adesso ci penso io cerco di muovere qualche marchi ingegno un attimo